Ciao a tutti e bentornati. Settimana scorsa è uscita la presentazione di Exor dei risultati complessivi per il 2023 e come sempre ci sono state tante informazioni interessanti. Ne parliamo nell'episodio di oggi. Exor è la holding della famiglia Agnelli gestita da John Elkan. Come molti di voi sapranno a gennaio ho acquistato azioni Exor facendo un primo ingresso con circa 2.000 euro. A differenza delle aziende americane a cui siamo abituati che pubblicano i risultati ogni tre mesi Exor pubblica solamente due aggiornamenti all'anno ogni sei mesi. Quello appena pubblicato si riferisce ai risultati di tutto il 2023. Tra settembre e ottobre invece vengono solitamente pubblicati i risultati dei primi sei mesi dell'anno in corso. Queste sono quasi le uniche occasioni insieme alla riunione annuale generale che si tiene a maggio in cui possiamo avere degli aggiornamenti direttamente dall'azienda stessa e quindi ne ho approfittato per leggere bene sia la presentazione dei risultati sia la lettera annuale per gli azionisti di John Elkan dove viene fatto un riassunto generale dell'andamento degli investimenti di Exor nel corso dell'anno appena concluso. Exor per come la vedo io è abbastanza simile alla famosissima Berkshire Hathaway il conglomerato gestito da Warren Buffett. Entrambe infatti cercano di investire in aziende di qualità per il lungo termine e possono essere viste quasi come degli etf abbastanza diversificati e con un rischio specifico inferiore ad altre aziende più classiche. E dal mio punto di vista il modo più semplice per capire il rischio di un'azienda è porsi la seguente domanda questa azienda esisterà ancora fra 20 anni? Nel caso di Exor come per Berkshire secondo me la risposta è davvero facile ed è ovviamente sì. Questo aspetto è fondamentale per la mia strategia di investimento. Reputo Exor così come Berkshire una delle aziende più sicure in cui investire per il lungo termine e ritengo che il rischio di perdere soldi nel corso degli anni sia davvero molto ridotto. Exor infatti esiste da oltre 100 anni sebbene nel corso dei decenni abbia cambiato nome e gestioni. Ora al comando c'è John Elkan che ha solo 48 anni e quindi penso che possa rimanere al comando per molti anni ancora. La sua gestione fino a questo momento è stata impeccabile e apprezzo molto il fatto che lui stesso faccia spesso riferimento a Warren Buffett per il suo stile di investimento. Un ulteriore vantaggio di Exor è che le sue dimensioni nettamente inferiori rispetto a Berkshire ampliano le sue opzioni di investimento mentre la sua solida rete di contatti l'aiuta a trovare nuove opportunità. Io infatti non ho sicuramente le stesse conoscenze degli addetti ai lavori del settore che può avere John Elkan che dirige Exor. Sono quindi ben felice di lasciare che sia lui a gestire una piccola fetta dei miei investimenti. Dico così anche perché gli interessi della dirigenza sono molto ben allineati con quelli di noi azionisti principalmente perché il patrimonio della famiglia Agnelli è strettamente legato all'andamento di Exor. Ma apprezzo molto anche il modo in cui viene gestito il buyback. Nella lettera annuale di John Elkan viene sottolineato ancora una volta come il riacquisto di azioni proprie è una componente importante di come viene allocato il capitale di Exor. Consideriamo il buyback come un ottimo modo per investire i nostri capitali quando le valutazioni sono adeguate. Questa frase potrebbe tranquillamente averla detta Warren Buffett e infatti è proprio parlando di questa strategia che viene citato lo stesso Buffett nella lettera di John Elkan. Apprezzo molto il fatto che Exor non faccia buyback a tutto spiano indipendentemente dal prezzo delle azioni, bensì cerca di riacquistare azioni proprie solo quando si ritiene che il prezzo sia sottovalutato. La lettera prosegue dicendo con questo approccio abbiamo continuato a sfruttare lo sconto di prezzo che c'è sulle nostre azioni per annunciare un miliardo di euro di buyback a settembre 2023. Tra il 2022 e il 2023 abbiamo tolto dal mercato 1,25 miliardi di euro di nostre azioni e i 250 milioni di euro rimanenti del programma di buyback verranno utilizzati nel 2024. Ma andiamo ora a vedere più in dettaglio i risultati dell'anno appena concluso. Iniziamo ricordando che Exor si pone come obiettivo quello di battere i rendimenti del famoso indice MSCI World con l'aumento del valore dei propri investimenti in aziende di grande qualità. Come vediamo in questo grafico nel 2023 l'obiettivo è stato centrato facendo registrare un rendimento quasi doppio rispetto a quello dell'indice. Gli investimenti di Exor sono così composti. Le due fette più grandi sono le partecipazioni in Ferrari e Stellantis, quindi il grosso dei rendimenti è strettamente legato all'andamento di queste due aziende, come sottolineato anche da John Elkan nella lettera dagli azionisti. Nel 2023 infatti sia Ferrari che Stellantis hanno registrato rendimenti superiori al 50%, un'annata straordinaria. Più aumenta il valore degli investimenti di Exor più aumenterà anche il valore delle azioni di Exor stessa e lo storico di Exor finora è molto positivo. Come vediamo in questa tabella i rendimenti hanno battuto l'indice di riferimento fin da quando ne abbiamo traccia, e cioè dal 2009. Chiaramente non tutti gli anni sono stati migliori dell'indice, ma la media dei rendimenti è nettamente superiore. Questo aspetto è stato sottolineato anche durante la conferenza stampa, ribadendo chiaramente la volontà di continuare a essere una cosiddetta compounding machine, cioè una macchina da interesse composto. In altre parole, Exor vuole continuare a essere un'azienda che riesce a massimizzare l'interesse composto anno dopo anno sul lungo termine, generando rendimenti migliori del mercato per i propri azionisti. Un altro aspetto secondo me molto positivo che è stato condiviso durante l'ultima presentazione è stato il miglioramento del rating creditizio di Exor da parte di Standard & Poor, una delle aziende specializzate in questo tipo di rating, e tra parentesi altra azienda di grande qualità che ho in watchlist. Fino a novembre il rating di Exor era BBB+, mentre ora è stato promosso ad A-. Entrambe le categorie rientrano sempre nella tipologia investment grade, ma un miglioramento è sempre positivo. Exor infatti emette periodicamente delle obbligazioni per finanziare la propria attività. Avere un rating migliore fa sì che gli investitori vedano come meno rischiose le obbligazioni di Exor e che a sua volta potrà proporre tassi più bassi, risparmiando molti soldi sul lungo termine. Per noi azionisti quindi è una notizia molto positiva. Ora però andiamo a vedere quella che secondo me è la parte più interessante di ogni presentazione semestrale. Exor infatti nelle sue presentazioni ci aiuta a capire meglio l'andamento dei suoi investimenti con questa tabella che viene aggiornata ogni sei mesi, ed è proprio grazie a questa tabella che possiamo anche capire se e quanto il prezzo delle azioni sia sottovalutato. Guardiamo in dettaglio la tabella. Nella prima parte viene mostrato il valore dei vari investimenti di Exor partendo da Ferrari e Stellantis che occupano le fette più grandi. Tutti questi valori sommati ci danno il Gross Asset Value cioè il valore lordo di tutti gli investimenti e vediamo che al 31 dicembre 2023 questo valore era di 39,8 miliardi di euro. Successivamente troviamo la parte legata al debito che a fine 2023 era di 4,2 miliardi. Ora non dobbiamo fare altro che togliere la parte di debito al valore lordo degli investimenti, quello che abbiamo calcolato prima, e otteniamo il Net Asset Value cioè il valore netto degli investimenti. E qui abbiamo 35,5 miliardi. L'ultima riga è la più importante e ci mostra il valore netto degli asset per ogni azione di Exor. Questo valore è ottenuto dividendo il valore netto di tutti gli investimenti per il numero di azioni in circolazione e al 31 dicembre questo valore era di 162 euro. Comprando un'azione di Exor quindi al 31 dicembre avremmo comprato un valore netto degli investimenti di ben 162 euro. Le azioni di Exor al 31 dicembre quotavano però 90,50 euro. Il prezzo delle azioni di Exor è sempre stato inferiore al valore netto degli investimenti. Quindi noi in qualsiasi momento comprando azioni Exor è come se comprassimo gli investimenti sottostanti con uno sconto. Se così non fosse allora non avrebbe senso comprare azioni di Exor e potremmo comprare direttamente le azioni di Ferrari o Stellantis ad esempio. Io ho creato questo grafico che ci mostra in rosso il valore netto degli asset per azione fornito da Exor ogni 6 mesi. Ho poi aggiunto in giallo il prezzo delle azioni di Exor e vediamo chiaramente come questo valore sia sempre parecchio inferiore al valore netto degli asset. Ho poi aggiunto un altro dato al grafico e cioè il rapporto tra il prezzo delle azioni di Exor e il valore netto degli asset per azione. Seguite un attimo il mio ragionamento così da capire cosa significa questo valore e perché è così importante nel caso di Exor. Facciamo un esempio. Se le azioni di Exor valgono 100 euro e il valore netto degli asset per azione dichiarato è 160 euro abbiamo un rapporto di 100 diviso 160 e cioè 0,625. Significa che le azioni hanno un prezzo che è solo il 62,5 per cento del valore degli asset. Se però il prezzo delle azioni Exor calasse a 80 il rapporto calerebbe a 0,5 e vorrebbe dire che le azioni hanno un prezzo che è il 50 per cento del valore degli asset. Capiamo quindi che più è basso questo rapporto più le azioni Exor sono a sconto in confronto al valore netto degli investimenti dell'azienda. Io ho calcolato questo rapporto per tutti i giorni dell'ultimo anno e mezzo e l'ho aggiunto al grafico con questa linea blu e attenzione in questo caso l'asse di riferimento è quello di destra che indica la percentuale. Più la linea blu cala più le azioni di Exor sono a sconto e vediamo che il valore della linea blu viaggia mediamente intorno al 60 per cento a volte più bassa e a volte più alta. Attenzione a non mischiare la linea blu e la linea rossa in quanto ognuna fa riferimento a un asse differente. La linea rossa con quella gialla seguono l'asse di sinistra in euro il prezzo. La linea blu invece segue l'asse di destra in percentuale e come abbiamo visto prima più è bassa questa percentuale più significa che le azioni di Exor sono a sconto. Come vediamo ogni volta che la linea rossa sale e cioè quando aumenta il valore netto degli asset abbiamo la linea blu che cala a indicare che le azioni Exor sono ancora più a sconto. Nell'ultimo anno e mezzo vediamo che i momenti migliori per acquistare azioni Exor in base a questo sconto siano stati gennaio 2023 e gennaio 2024 quando ho fatto anche io il mio primo ingresso comprando 23 azioni. L'unico problema è che il valore della linea rossa viene aggiornato solo quando Exor pubblica i propri risultati due volte all'anno. Ecco perché abbiamo questi salti. In realtà anche la linea rossa dovrebbe oscillare quotidianamente poiché è legata all'andamento degli investimenti di Exor come Ferrari e Stellantis. Quindi cosa ho fatto? Ho preso la tabella che abbiamo visto prima che elenca il valore netto dei vari investimenti e ho provato ad aggiornare i valori delle aziende quotate di cui posso sapere i rendimenti in questi primi mesi dell'anno. Sto parlando di Ferrari, Stellantis, CNH Industrial, Iveco, Juventus e Philips. Ho lasciato tutto il resto invariato perché ovviamente non posso sapere se e cosa cambiare nella sezione ad esempio del debito. Secondo questo calcolo il valore netto degli asset dal 31 dicembre al 15 aprile è cresciuto da 35 miliardi a 41 miliardi e il valore netto degli asset per azione è cresciuto da 162 euro a 190,72 euro dal 31 dicembre al 15 aprile. Il motivo è semplice. In questi primi mesi dell'anno Ferrari e Stellantis ma anche Iveco stanno registrando rendimenti molto positivi quindi il valore degli investimenti di Exor è aumentato di conseguenza. Ho calcolato anche il valore al 31 gennaio e al 29 febbraio così da provare ad avere un andamento un po' più realistico della linea rossa sul grafico. Così facendo vediamo che al 31 gennaio il valore degli investimenti per azione era già salito da 162 a 165 euro. A fine febbraio aveva raggiunto i 185 euro. Infine al 15 aprile siamo arrivati ai 190 euro citati poco fa. Aggernando il grafico con questi valori vediamo che la linea rossa sale ancora mentre la linea blu cala parecchio poiché il prezzo delle azioni di Exor da inizio anno fino a oggi non è cresciuto alla stessa velocità con la quale è aumentato il valore degli investimenti dell'azienda. Il rapporto tra il prezzo delle azioni e il valore netto degli asset è quindi calato vicino al 50% e significa che lo sconto in questi giorni è più alto rispetto alla media dell'ultimo anno e mezzo. Ovviamente non sto dicendo che dobbiate comprare azioni Exor in questi giorni. Sapete che i miei non sono consigli finanziari e vi invito sempre a fare le vostre analisi prima di qualsiasi investimento. Io cercherò di aggiornare periodicamente il valore della linea rossa sapendo comunque che non sarà mai un valore corretto e attendibile al 100%. Ma ritengo che possa essere comunque un valore più affidabile rispetto a quello del 31 dicembre poiché le quotazioni delle varie aziende possono cambiare parecchio mese dopo mese. Infatti così come negli ultimi mesi è cresciuto il valore netto degli investimenti di Exor può anche capitare che ci sia un calo proprio come accade nel 2022 e a quel punto anche il prezzo delle azioni di Exor calerebbe e lo sconto si ridurrebbe. Per la mia strategia di investimento comprare azioni di Exor quando lo sconto è maggiore rispetto alla media storica può essere una buona idea. Ma quindi ho comprato altre azioni di Exor? Prima di dirvelo se questo episodio vi sta piacendo vi chiederei gentilmente un like ed iscrivervi al canale. Sapete che per me è importantissimo. La risposta è no. Per ora non ho incrementato la mia posizione ma sto tenendo aggiornato il grafico che abbiamo visto insieme poco fa ed è molto probabile che farò un altro acquisto nei prossimi giorni. Come sempre vi farò sapere qualsiasi mia operazione in totale trasparenza. In conclusione ritengo che Exor sia un'ottima azienda ben diversificata con un rischio specifico minore rispetto ad altre aziende più classiche. Ha una storia di oltre 100 anni e mi viene difficile pensare che tra 10 o 20 anni possa non esistere più. Inoltre la dirigenza guidata da John Elkan ha un ottimo storico che fa ben sperare per il futuro poiché ad oggi non sembrano esserci segni di rallentamento. L'approccio agli investimenti e alla gestione del capitale anche per il buyback si ispira molto allo stile di Warren Buffett quindi dal mio punto di vista è un valore aggiunto. Ovviamente posso sempre sbagliarmi. C'è da dire comunque che grazie agli aggiornamenti periodici forniti dall'azienda è molto comodo per noi azionisti dare anche una valutazione e capire quando le azioni di Exor siano sottovalutate. È un'azienda quindi che per me può avere rendimenti superiori al mercato anche in futuro e personalmente mi sentirei a mio agio anche dedicandogli una fetta maggiore del mio portafoglio rispetto a quella attuale. Ho comunque tutto il tempo per costruire una posizione più grande senza fretta. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Per oggi è tutto e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!